Allora, qui ci sono quattro caramelle e qui due bambini di nome Valentina e Stefania. Devi dividere i caramelli in parti uguali e danno un po' a Valentina e un po' a Stefania. Quante caramelle è data a Valentina? Due. E a Stefania? Due. E quanto risulta? Quattro viso due. 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 Grazie. 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 3 diviso 3, quante volte ci sta il 3 nel 3? Una volta. 2 diviso 1, quante volte ci sta l'1 nel 2? Due volte. 8 diviso 4, quante volte ci sta 4 nell'8? Uno, due. 3 diviso 3, quante volte ci sta il 3 nel 3? Una volta. 6 diviso 6, quante volte ci sta il 6 nel 6? Una volta. 4 diviso 2, quante volte ci sta il 2 nel 4? Uno, due, tre volte. 8 diviso 2, quante volte ci sta il 2 nell'8? Uno, due. Uno, due, tre, quattro. 2 diviso 2, quante volte ci sta il 2 nel 2? Una volta. 6 diviso 3, quante volte ci sta il 3 nel 6? 6 diviso 3, quante volte ci sta il 3 nel 4? Quattro. Una volta. 9 diviso 3, quante volte ci sta il 3 nel 9? 9 diviso 3, quante volte ci sta il 3 nel 4? Tre volte. 9 diviso 2, quante volte ci sta il 2 nel 9? 9 diviso 3, quante volte ci sta il 3 nel 5? 9 diviso 3, quante volte ci sta il 3 nel 2? 9 diviso 4, quante volte ci sta il 4 nel 2? 2 volte con il resto di 1 7 diviso 2 Quante volte ci sta il 2 nel 7? 1, 2, 3 3 volte con il resto di 1 9 diviso 5 Quante volte ci sta il 5 nel 9? 1 1 1 Una volta con il resto di 3 7 diviso 4 Quante volte ci sta il 4 nel 7? 1 Una volta con il resto di 3 Quante volte ci sta il 4 2 2 3 2 4